Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di sabato 18 aprile, siamo in diretta 7.51, ben ritrovati, la rassegna stampa di questo fine settimana che inizia come sempre con il santo del giorno. Oggi è un santo tutto nostrano, un santo fanese, sante Eusebio a Fano nelle Marche, sante Eusebio Vescovo che accompagnò il Papa San Giovanni I inviato a Costantinopoli dal re Teodorico seguendolo a ritorno anche nel carcere in cui venne rinchiuso. E allora andiamo a vedere il tempo per quanto riguarda la giornata di oggi, il cielo sarà sereno, poco nuvoloso al mattino, aumenteranno la copertura nuvolosa nel pomeriggio e le temperature saranno in aumento. C'è anche un po' di vento a regime di brezza, moderato, teso, nel primo pomeriggio proveniente da sud-est. Domani il tempo comincia a cambiare invece, domenica 19. Vedete, nell'entroterra ci sarà cielo perturbato con possibilità di piogge dal pomeriggio sparse nelle zone interne ed in graduale destensione nel resto della regione però durante la serata. Lunedì il maltempo continuerà, le piogge continueranno, saranno deboli e diffuse in particolare nelle zone interne ma i fenomeni saranno localmente a carattere di rovescio. Le temperature minime saranno stazionari a lunedì mentre quelle, quelle saranno dunque le minime stazionari e le massime invece in diminuzione con tendenza a diminuire ulteriormente nel corso del pomeriggio. Poi avremo residui fenomeni di stabilità insomma anche per la prima parte della prossima giornata. Allora, il resto è il carino. L'apertura di Pesaro e ora liberiamo gli ospedali. Il fotonotizia per Ceriscioli e Bertolaso. Ieri a Civitanova con questo sopralluogo per il nuovo centro Covid. Il titolo d'apertura è però per la morte di Claudio Ferri, altre lacrime per la città. La città è di Pesaro, se ne va l'imprenditore del mobile, uno dei protagonisti del successo Febal e poi la grande passione per l'arte. L'oncologa catalano che dice non facciamoli morire da soli, il dibattito sulle vittime del virus e a Santa Colomba scontro sindacati gestori, la strage e le polemiche. Ancora l'utti, l'anestesista Riccardo Amadori cede alla malattia, uomo ad altri tempi, se ne va nel giro di pochi mesi. Nuovi contagi, boom, buon trend, un positivo ogni 11 tamponi. Dunque possiamo dire che continua la frenata. Poi controlli sui ponti, la provincia ne ispeziona 15. Affidate le indagini strutturali ad un'azienda specializzata. Ecco il piano. E poi le edicole che domani saranno aperte, anche il resto del carino come il Corriere Adriatico pubblica l'elenco di quelle edicole che sono aperte ma addirittura portano i giornali a casa. Iniziati invece i lavori sulla spiaggia, sulla renile, ma come ripartiremo? I bagnini sono in azione ma con tanti dubbi. Intanto i lavori sono stati rinviati nella spiaggia di Ponente, sempre a Pesaro, non c'è niente da fare per le scogliere. Ceriscioli, ospedale sarà il top. Il Presidente della Regione visita la struttura di Civitanova. Quando sarà pronto ci permetterà di ospitare tutti i malati Covid, ora nei nosocomi di ogni città, in modo da evitare nuovi blocchi e nuovi contagi. Nuovi contagi invece contagiati un positivo su 11 tamponi. Dunque i numeri del contagio di questo mese continuano ad essere buoni. Calano ancora i ricoverati, compresi quelli gravi. Ieri altre 11 vittime, purtroppo di cui 3 nella provincia di Pesorubino. Nel Pesarese le vittime sono salite a 432. Poi il Carlino se la prende un po' con una mail, con una lettera che l'area vasta 1 ha mandato ai dipendenti che sui social fanno commenti relativi all'epidemia di coronavirus, in una delle crisi più difficili per la storia della nostra comunità, e se la prende criticandoli, criticando l'area vasta per questa lettera. Mentre il territorio scrive il Carlino a Naspa, tra i dispositivi di protezione ancora carenti, tamponi eseguiti con colpevole ritardo, o il risultato, il cui risultato è andato perso, e l'USCA, queste squadre che dovrebbero andare appunto nelle case a visitare, che sono prive delle necessarie strumentazioni, l'area vasta si preoccupa della propria immagine. E non importa se i commenti riguardano i comportamenti da seguire per evitare il contagio, e abbiano ottenuto centinaia di visualizzazioni. Ciò che conta è dire che tutto va bene, scrive il giornale. Morto Claudio Ferri, ex Febal, aveva 56 anni, malato da tempo, ispirato ieri nella sua casa, uomo di grande passione per l'arte, il bello e l'impresa, era capo della Cosmob. Mentre Equitalia ricorda Bonazzelli, uomo indimenticabile, addestato in pressione in città, non solo tra gli amici, i compagni di lavoro, i tanti conoscenti, la fine di Alessandro Severini Bonazzelli, responsabile degli uffici di Equitalia, sia per l'età, 61 anni, sia anche per il fatto che fisicamente era in perfetta forma. Addio Riccardo Amadori, medico e volto amico dello studio Blandini, anestesista, aveva 61 anni, Alessandra Blandini lo ricorda, persona d'altri tempi, aveva 61 anni ed era uno dei volti noti amati della buona sanità pesarese, lo ha vinto un male incurabile che lo aveva aggredito a gennaio. E questa invece è la pagina di Pesaro, sempre del resto del Carlino, ci sono buone notizie per gli anziani, coloro che hanno gli orti, molti anche in questi giorni ci hanno chiesto informazioni sulla possibilità di andare o meno a curare il proprio orto, l'orto comunale. Bene, il decreto del Presidente della Regione, in questo senso, dà la possibilità ai tanti anziani che amano trascorrere il loro tempo libero negli orti ad andare, perché da oggi è consentita la coltivazione degli orti comunali gestiti dai quartieri, qui in questo caso si sta parlando di Pesaro. L'attività sarà permessa esclusivamente ai concessionari, quindi non ai parenti o ai congiunti, nei giorni feriali, per due giorni alla settimana, dalle 8 alle 20, ma con tre turni diversi, sentendo il rispettivo Presidente del Comitato degli orti a seconda del quartiere. Quindi dovete fare, quelli che ci seguono da Pesaro, una telefonata al Presidente dei quartieri per farvi dire esattamente quali orari hanno scelto, eccetera, eccetera. Quindi saranno comunque circa, sono tanti le persone coinvolte, credo che se non ho letto male, circa 400. E comunque i quartieri sono distribuiti in 5 torri, Santa Veneranda, Strada Castagni, poi ce ne sono 40 a Villa Fastigi, Villa Ceccolini, in Via Lago di Lesina, 130 nel quartiere Montegranaro Muraglia, poi in Strada Carloni, a Pozzo e Borgo Santa Maria, in Strada del Foglia e infine 78 a Villa San Martino in Via Lombardia. Insomma, questa è una buona notizia che fa sicuramente tirare su un po' di morale i nostri anziani. Poi da lunedì tornano ad essere operativi anche 13 uffici postali a Pesaro in provincia, riapriranno 13 uffici postali il cui orario al pubblico era stato temporaneamente rimodulato a causa del coronavirus, lo fa sapere Poste Italiane, che nell'attuale fase di emergenza continua a garantire ai cittadini i propri servizi, mettendo in atto un ampio sforzo organizzativo anche attraverso la collaborazione delle istituzioni locali. E poi, sempre dal resto del Carlino, l'idea a pergola di un produttore, di un imprenditore, che fino a poco tempo fa produceva letti in tessuto e che adesso invece si è riconvertito alla produzione di mascherine. Ne produrrà circa 100.000 al giorno, nonostante la burocrazia. Questo è l'obiettivo a cui punta questo imprenditore, che si chiama Piero Priori, ed è presidente della Noctis, questa azienda che si trova a Pergola. In una quarantina di dipendenti sono tornati in fabbrica, una quarantina, avviata la lavorazione, proprio ieri il sindaco ha annunciato la distribuzione di questi presidi. Spiaggia, lavori in mare, in un mare di dubbi, via la manutenzione sull'arenile, ma i bagnini non sanno che estate sarà, nessuno di noi lo sa. L'importante però, dicono loro, è ripartire, mentre Alice Giamprini, che è una persona che gestisce questi stabilimenti balneari, dice lasciamo stare per favore i box in plexiglass, neanche a pensarne. Intanto Bianchini, della CNA, dice le regole per l'estate 2020 vanno chiarite subito. Così si nasce ai tempi del Covid. La fotografia, nella fotografia Claudio Ciccoli, il primario che racconta com'è cambiato a Fano il parto in questi mesi. A Fano si lavora in piena efficienza, i padri non possono assistere di persona, però ci si organizza con un tablet. L'ultimo è un maschietto venuto al mondo ieri pomeriggio, due settimane prima del tempo. Per questo ora, in attesa dell'esito del tampone, è isolato con la sua mamma in una stanzina apposita, riservata ai casi come il loro. Intanto lontano dalla nursery e da tutti gli altri bimbi nati in questi giorni. Per gli anziani disabili, 5 Stelle invece di Fano chiedono lumi alle strutture. vogliono sapere quanti decessi per Covid-19 ci siano stati finora nelle strutture per anziani disabili del nostro Comune, perché al di là delle responsabilità che verranno analizzate alla fine dell'emergenza, occorre ora garantire per i prossimi mesi gli anziani e i disabili, ospiti e gli operatori sociali e sanitari che vi lavorano e che siano tutelati dal punto di vista della salute. Poi, per quanto riguarda invece la pagina di Urbino, eccola qua, pronti a ripartire, ma con controlli a rafica. Anche il Sindaco Gambini ha incontrato le associazioni di categoria. Il tema è quello che accadrà a breve con il riavvio di alcune attività commerciali. Il primo cittadino dice voglio sollecitare tutti alla responsabilità. Dunque la città di Urbino si prepara alla riapertura delle attività economiche, ma, dice il Sindaco, voglio sollecitare tutti alla responsabilità. Da parte nostra il Comune farà tutti i controlli per verificare che siano rispettate le disposizioni su distanze, mascherine e assembramenti di persone. Gambini ieri pomeriggio ha incontrato le associazioni di categoria per poter parlare di quello che accadrà a breve con il riavvio di alcune attività commerciali, artigianali e produttive. E adesso andiamo a leggere il Corriere Adriatico. Questa è la prima pagina. Arrivano i soldi, la mafia è pronta. L'allarme è del procuratore generale Sottani. Hanno studiato la pratica, useranno la tecnica del cavallo di Troia, dice. I clienti in affanno, veicolo di erogazioni illecite, banche decisive nel filtraggio. Temo i cambi di proprietà ad hoc. A centro pagina invece la statistica, un boom di decessi, più 260% a Pesaro. A marzo a Pesaro si sono registrati 310 decessi, più 260%. È il quinto maggiore incremento tra i capoluoghi. E poi l'assessore Pozzi, sempre da Pesaro, che dice l'emergenza costa il 16% del bilancio, il bilancio pesarese. Rivolta a Villa Fastigi invece, coinvolte 170 detenuti, vincente la mediazione. E poi partiti gli interventi negli stabilimenti balneari, ora il ripascimento. Queste sono le pagine interne. Meno di 100 pazienti in terapia intensiva. Cessato allarme? No. Minimo di ricoveri nel giorno del lancio del Covid a ospita la Civitanova. Bertolasio e Ceriscioli dicono ecco perché la maxi rianimazione sarà preziosa. Ieri abbiamo visto altre 11 vittime, ora sono quasi 800, aumentano però anche le persone dimesse. Il consulente della regione dice un virus pericoloso come i terroristi dell'11 settembre. Ma quanti morti in più? Siamo sull'altra pagina del Corriere Adriatico rispetto all'anno scorso. L'onda anomala dei lutti. Nei 60 giorni clou dell'epidemia ci sono stati più decessi in 24 comuni su 27 censiti. Aumenti percentuali a tre cifre nel Pesarese. A Cupra Montana si passa da 0 a 11. E poi, sempre sfogliando il giornale, il Corriere Adriatico, l'allarme dopo il vertice del prefetto, frenare l'usura e il disagio sociale. Summit con le forze dell'ordine, magistrati e l'ABI. D'Acunto dice attenti alla disperazione delle persone più deboli. E sempre da Ancona la sfida delle aziende in deficit pronti. Noi siamo pronti ma serve più liquidità. E allora ecco l'intervista al Procuratore Generale Sottane. La pubblica il Corriere di questa mattina. I clienti già affidati, ma non mai in affanno, possono diventare veicolo di erogazioni illecite. Le banche avranno un ruolo chiave nel filtraggio delle pratiche. Temo però i cambi di proprietà recenti ad hoc. Arriverà denaro a fiumi e la criminalità è pronta. Occhio ai cavalli di Troia. Questa è la pagina sul Corriere. Poi verso la fase 2. Moda, l'ultimo treno, aprire entro lunedì. Le aziende chiedono di tornare al lavoro per terminare i campionari. E poi gli ordini in sospeso. Ed ogni collezione che ci costa, dice Annarita Pilotti, ci costa un milione e mezzo, Annarita Pilotti di Loro i Blu. Non possiamo rientrare subito. Chi può lavorerà a casa. E poi invece Luigi Lardini, prima del lockdown, dice facevamo già i doppi turni in azienda, però a rischio due stagioni. In queste condizioni non si resiste a lungo. Ancora dal Corriere Adriatico, le pagine di Pesero. Un boom di decessi. Un boom di decessi a Pesero, più 260%. Questo è il quinto capoluogo. Allarmanti dati dell'Istat sull'incremento a marzo rispetto al quinquennio precedente. Il 33% dell'aumento non è attribuito dal Gores al virus. L'indice del collasso sanitario. La crescita è del 450% a Monbaroccio, del 335% a Gabice, 115% a Fano e 50% a Orbino. Il riferimento è le morti di quest'anno con quelle del 2019. Lo vedete da questo riquadro che pubblica il Corriere questa mattina. A Fano sono 125 i morti fino a questo momento. Nel 2019, nello stesso periodo, quindi parliamo di gennaio-aprile, gennaio-marzo, insomma sono 58, quindi un balzo del 115%. Mentre apre a Urbino il reparto filtro, no Covid ma serve concretezza, il direttore sanitario Andrea Cani dice in arrivo anche altri tre dottori, mentre i sindacati sui contagi nelle strutture di Santa Colomba parlano di errori nella gestione. Intanto partiti i lavori in spiaggia, bisogna però autorizzare il livellamento dell'arenile, Corsini e Sparacca tra i primi operatori balneari tornati negli stabilimenti, il problema ora riguarda il ripascimento, è necessario la sabbia appiattita, mentre qualcuno sta pensando di fare, in qualche modo di portare a casa il risultato, portando gli ombrelloni a domicilio. E non tutti disprezzano l'idea, anzi pare insomma che sia, che piaccia. Mentre sulle piccole imprese edili a rischio estinzione sono titolari e sindacati, chiedono liquidità e sgravi fiscali, lavorare ci costerà di più, una piccola boccata d'ossigeno dal prolungamento del piano casa però non basta. E la pandemia a Pesaro si mangerà il 16% del nostro bilancio, sanzioni, tasse, tariffe, parcheggio a pagamento, il crollo da quarantena, l'assessore Pozzi e le prime proiezioni sulle entrate che mancheranno. Intanto si registrano rivolta a Villa Fastigi, coinvolti 170 detenuti, chiedono di scontare la pena ai domiciliari per evitare il rischio di un contagio in carcere. Forze dell'ordine schierate, ma la mediazione di Fanulli, Lapolle e Rossi calma gli animi. E poi andiamo a vedere le altre pagine del Corriere Adriatico. Questa è la storia che arriva da Ancona, ma in realtà riguarda tre ragazze di 27 anni, di Fermo, Porto di Sant'Elpidio al Mare e di Iesi, tre ragazze, Barbara, Sofia e Chiara, che domani rientreranno dalla Florida, da Orlando, dove lavoravano alla Disney World, il parco giochi più grande del mondo. Anche loro sono stati, come tutti gli altri colleghi, tantissime persone, 43 mila dipendenti del parco sono stati mandati a casa, compreso i 220 giovani italiani che sono stati licenziati, tra cui appunto queste tre ragazze. Il parco ha chiuso, lo fece soltanto in occasione dell'assassinio di Kennedy e dell'11 settembre con l'abbattimento delle torri gemelle. Poi la fiera, come un'astronave, libereremo gli altri ospedali, dice Bertolasio insieme a Ceriscioli, danno impulso al progetto del Covid Center, farà scuola, dicono, quello di Cittanova sarà il primo nosocomio a tornare alla normalità nei reparti. E poi, tornando e andando avanti, ecco, nelle pagine di Pesaro del Corriere Adriatico, addio Claudio Ferri, il creativo del mobile, dalla Cosmob alla pescheria, partendo da Febal. L'imprenditore aveva 56 anni e stava male da tempo. La famiglia lo definisce un guerriero pronto a spronare tutti. Indagini strutturali su 15 punti. Puntiamo sulla prevenzione. Il Presidente della Provincia, Paolini, affida l'incarico ad una ditta specializzata. Sotto, invece, è morto Amadori, il medico Gentile, stroncato in tre mesi da una malattia. L'ospedale difeso dalle opposizioni a Urbino. Adesso si restituisca al territorio. Strutturano Covid, ma più che la classificazione saranno determinanti organizzazioni, test e protezioni. A Vallefoglia, 106 mila euro di buone spese a 400 famiglie. Per i più deboli, la pagina di Fanno del Corriere, 15 mila mascherine gratis, altre 7 mila pezzi disponibili nei tabaccai, consegne a domicilio per over 65, per chi ha più di 65 anni, e categorie speciali. Effetto calmiere, se richiede ad Aset di acquistarne altre di queste mascherine. Mentre Rapa, Boris Rapa, il consigliere regionale, chiede sulla Fanno Grossetto di fermare i lavori. Castellani, a Fossombrone, la casa di riposo, la casa protetta, 6 morti, nuovo sopralluogo, il referto degli operatori Asur, 21 casi positivi, 7 ospedalizzati, parla a un familiare e dice una strage che non si ferma, colpa dei tagli indiscriminati alla nostra sanità. E poi i 5 Stelle che chiedono a Seri, quindi a Fanno, una ricognizione sui decessi, sulle protezioni usate, sui tamponi, insomma, si tuteli la sicurezza, dicono i 5 Stelle, nelle case di riposo. Poi Valcesano, Lucian, è rinato all'ospedale di Pergola, muoveva gli occhi, ora cammina e parla. Il 41enne è ricoverato a Ravenna per un malore, in coma per 27 giorni, poi il trasferimento al Santi Carlo e Donnino. Sotto, cantieri fermi a Mondolfo, noi no, appaltato il Sant'Anna, l'assessore Catalani dice c'è anche la determina per l'Istituto Fermi. Poi a Cattolica, invece, nella pagina di Cattolica, il Titano praticamente brucia tutti. A San Marino, infatti, riapre gradualmente da lunedì, quindi fra due giorni, dopo il lockdown più soft, ma altamente restrittivo, soprattutto per gli spostamenti. Tornano al lavoro parecchi dei 6.000 frontalieri totali, di cui un quarto sono del Pesarese e un terzo della Valconca. Da Senigallia, invece, posti dell'emergenza dimezzati, all'ospedale riaprono i reparti. Da oggi si lavora per liberare la chirurgia ordinaria e riattivare le sale operatorie. Stop ai concerti dal balcone per le proteste dei residenti a Castelleone di Suasa, rammarico per Maria Luna, questa ragazza che aveva deciso di cantare tutti i giorni alla stessa ora una canzone. Insomma, alla fine qualcuno si è indispettito e ha chiamato i carabinieri. Poi la pagina di Iesi, donati i fondi per i buoni spesa. Questo è tutto per quanto riguarda la nostra informazione. Grazie per la vostra cortese attenzione. Vi auguro una buona giornata. Vi ricordo questo numero di telefono per le vostre segnalazioni. L'appuntamento in diretta torna domani mattina alle 10 per la Santa Messa con il Vescovo e poi lunedì mattina invece di nuovo alle 7.45 dopo la Messa del Papa qui su Fano TV per la lettura dei giornali. Grazie e buon fine settimana a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.